Siamo arrivati in tre, per la finale c'è il primo posto, posto di Giulia e Guto Guaia. A me uno ci potrà in un periodo di semifinale, credo di Sebastiano e Ombro di Gerico. Vai, bravo! Bravo Luca! Viceformazioni Maria. Forse buon Angela, come la Claudia. Vai Luca! Vai Marco! Vai Marco! Vai Marco! Vai Marco! Grazie. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti